Riteniamo che solo con l'attivismo i giovani potrebbero avere un attimo, potrebbero avere un loro reale spazio, potrebbero avere il modo di dimostrare le loro idee e non quelle di un ministero che non è al passo coi tempi. Solamente con un'attività di piazza in cui i giovani possono portare le loro idee, possono creare le loro organizzazioni, le cose potranno cambiare. A tal proposito voglio citarvi i fatti che probabilmente sono oggi a tutti, che nel secolo scorso hanno sconvolto quello che è stata la storia del nostro paese. Infatti mentre la guerra in Vietnam imperversava erano i giovani che si sono venuti in piazza, erano i giovani che sono alla fine, con la loro coscienza, hanno potuto portare alla finita l'evento. In Italia sono stati giovani che organizzandosi autonomamente hanno creato le loro assemblee all'interno della scuola. Non gli è stato proposto di fare da mediatori, da comunicatori del ministero dell'istruzione. No, non ci sarebbero stati perché questo non avrebbe cambiato niente. Avrebbero potuto magari servire in un piatto più addolcito, avrebbero potuto dare un gusto diverso, però sembra l'amarissimo piatto di una politica che non è giovane. Invece, scendendo direttamente in piazza, proponendo le loro idee, i giovani possono fare qualcosa di più, possono creare un loro modello per il futuro. E questo è totalmente incompatibile col modello che ci ha sopportato dalla squadra pro, che li vedrebbe invece relegati a un ruolo secondario di meri comunicatori di qualcosa deciso sostanzialmente da altri. Perciò riteniamo che, oltre alle loro carenze tecniche, che darebbero anche grandi difficoltà a livello comunicativo, i giovani non devono entrare nel mondo della politica con i metodi proposti dalla squadra pro, in quanto un mondo che non appartiene loro, in quanto un mondo che non gli permetterebbe realmente di cambiare le cose, esprimendo quelle che sono le loro rivoluzionari idee. Vi ringrazio tutti e concludo il mio intervento. Vi ringrazio tutti e concludo il mio intervento.